Si è celebrata a Milano la tredicesima edizione dei Bandi Chidead, appuntamento tradizionale che premia ricerca, innovazione e impegno sociale attraverso il Fellowship e Community Award Program, a cui quest'anno si è aggiunta anche la novità del Data Publications Grant, terza modalità di sostegno economico per ricercatrici e ricercatori italiani, autori di studi di rilevo internazionale pubblicati su riviste di alto valore scientifico. Il titolo di quest'anno è stato Storie che fanno la storia, che spiega in maniera chiara e semplice come questo appuntamento pluridecennale stia servendo a cambiare i destini di tante persone in difficoltà, sia a causa di malattie virali che oncoematologiche, ma anche per gli annessi sociosanitari che la malattia stessa comporta. Oggi siamo qui per la tredicesima edizione dei Bandi Gilead che ormai da tempo riconoscono l'eccellenza nella ricerca italiana attraverso il Fellowship Program e il supporto dell'eccellenza in termini di supporto alle comunità e il Community Awards Program. È per noi un onore come Gilead supportare queste iniziative in maniera assolutamente indipendente per dare voce, nel caso specifico della ricerca scientifica, all'eccellenza della ricerca italiana nel programma Fellowship Program, a cui quest'anno si aggiunge anche la celebrazione dei Data Publication Grants. Come si inseriscono i Bandi Gilead in una situazione come quella italiana in cui ci sono chiare difficoltà a reperire fondi destinati alla ricerca e non solo a questa? Ecco, diciamo che in quest'ambito si posiziona in maniera assolutamente calzante un'iniziativa come questa, per dare qualche numero nelle tredici edizioni dei Bandi Gilead, in particolar modo del Fellowship che supporta la ricerca, abbiamo supportato oltre 450 progetti e abbiamo stanziato oltre 11 milioni e mezzo di euro. Quindi questo parla un po' dell'impegno e dell'importanza che riveste per Gilead il supporto anche alla ricerca indipendente. Accanto al Fellowship quest'anno celebriamo per la prima volta anche i Data Publication. I Data Publication sono una storia che esiste da 50 anni, sono il supporto che noi offriamo alla pubblicazione di dati che sono stati raccolti ma non ancora divulgati alla comunità scientifica e lo facciamo con fondi che vanno ad aggiungersi a quelli del Fellowship. Quindi per ritornare alla sua domanda sicuramente l'importanza per Gilead di supportare l'eccellenza della ricerca nel nostro paese è fondamentale e i numeri lo raccontano. Dottor Zucchello, oggi prendiamo progetti destinati ad aiutare i pazienti attraverso il lavoro delle associazioni. Come è cambiato il ruolo dei pazienti e delle associazioni nel corso degli ultimi 13 anni? Fondamentalmente è cambiato nella durazione di cercare di trovare delle soluzioni più concorrete ai propri problemi. Sappiamo tutti come la sanità pubblica, non solo recentemente ma negli ultimi anni andate sempre più in crisi dando meno assistenza diretta ai pazienti e quindi l'associazionismo dei pazienti è diventato sempre più fondamentale. Questo è per risolvere e arrivare a risolvere quei problemi in quelle sacche soprattutto di pazienti che hanno meno accessibilità al servizio sanitario pubblico. Quindi il ruolo dei pazienti è quello di avere una maggior coscienza dei propri problemi e attraverso le associazioni che li rappresentano portare questi problemi all'attenzione del pubblico e all'attenzione di chi è in grado di finanziare dei progetti per risolverli. Quali caratteristiche devono avere i community award? La cosa principale è che i progetti devono avere un impatto ben chiaro sui beneficiari previsti. Cioè ci deve essere un cambiamento nelle condizioni dei beneficiari previsti per il gusto del giallo al progetto. Noi i progetti devono essere ben scritti dal punto di vista anche della progettualità dei contenuti. Intendo dire che se un progetto è ben scritto sarà anche ben valutabile e quindi si potrà capire se il progetto ha avuto successo oppure se ha avuto delle criticità sulle quali bisognerà intervenire. Però se il progetto non è scritto in maniera adeguata fin dall'inizio sarà difficilmente ben valutabile. Quindi l'attenzione ai bisogni dei malati, dei pazienti e l'attenzione alla progettualità. Qual è il valore del programma di community award? Sarebbe importante che ce ne fossero due plus secondo me proprio perché va a coprire alcune mancanze, alcune sacche di problematicità che altrimenti non verrebbero coperte in alcun modo. Alle volte queste piccole associazioni che sono associazioni appunto di malati, di pazienti, riescono a cambiare anche con pochi sendi e riescono a cambiare una situazione critica. Quindi il bando Gilead, sopprendo parecchie associazioni perché con questo bando sono stati soddisfatti 33 progetti sulla sessantina di progetti presentati, è in grado di rispondere almeno parzialmente a questi problemi. Certo, se ci sono tante Gilead che fanno la stessa cosa come Gilead si potrebbero risultati più, purtroppo oggi non sono molti e i fondi pubblici, lo si diceva anche prima durante le sessioni, i fondi pubblici per queste associazioni sono sempre più rari e rarefatti. Quindi, se venga bene il corporate, la funzione di corporate di un'impresa di un'azienda importante come Gilead che è in grado in questo modo di rispondere almeno in parte a un bisogno così grosso. I dati di quest'anno sono come sempre importantissimi. Sono stati infatti stati stanziati quasi 1,5 milioni di euro che andranno a sostenere 25 progetti di ricerca e 33 iniziative in campo socioassistenziale. A questi si aggiungono 4 premi speciali per quei progetti che si sono distinti per l'attenzione a problematiche etiche o per quei progetti che, già premiati, meritano un sostegno ulteriore dato l'alto valore. Le ricerche e associazioni sono un patrimonio che Gilead intende proteggere poiché, come emerso dall'indagine condotta da Astra Ricerche per conto di Gilead Sciences, l'80% della popolazione italiana ritiene indispensabile, insostituibile e decisivo il contributo delle e degli scienziati alla lotta contro le malattie, migliorando la qualità della vita. Similmente, anche le associazioni pazienti sono percepite in maniera estremamente positiva perché ritenute in grado di cambiare le storie cliniche o quantomeno a tutelarne vita e salute. Professor Madeddu, ci può raccontare il suo progetto che sappiamo essere dedicato alle pazienti affette da HIV? Il progetto, come dice già il titolo, ha l'obiettivo di valutare i disturbi neuropsicoallergici che sono molto frequenti nella popolazione delle persone con HIV, soprattutto se donne. Il focus del progetto è quello di valutare, con delle scale di valutazione dei questionari, i disturbi legati a depressione, ansia, qualità del sonno e correlarli con la qualità della vita e l'aderenza alla terapia antiretrovirale. Sappiamo infatti che è possibile che questi disturbi provochi una riduzione dell'aderenza, quindi col rischio di fallimento dei trattamenti. Il nostro obiettivo è appunto quello di focalizzare l'attenzione su questi aspetti, cercare di identificarli precocemente e eventualmente permettere alla persona, alla donna con HIV, di gestire la sua problematica in modo da migliorare la qualità della vita. Dottoressa Chiari, a lei è stato segnato il riconoscimento per un progetto dedicato alle donne affette da tumore mammario. Può presentarcelo? Il progetto è rivolto, come richiedeva il bando, a pazienti affetti da tumore della mammella che hanno una delle neoplessie con una maggiore incidenza in tutto il territorio nazionale. Il nostro territorio è abbastanza esteso con una bassa concentrazione degli abitanti e quindi soprattutto nelle zone montane o collinari un po' di meno il problema esiste sul mare. Quindi avendo un'azienda ospedaliera che si articola su tre presidi abbiamo puntato alla collaborazione con un'associazione di volontariato già operante sul territorio da molti anni che si chiama Iopra con l'obiettivo di savorire l'accessibilità alle tre strutture che lavorano in sinergia ma poter guidare i pazienti attraverso le tre strutture per poter accedere a tutti i servizi nel loro percorso non è una cosa scontata soprattutto nei casi in cui non è presente un caregiver. Quindi l'obiettivo uno è appunto quello di migliorare l'accessibilità ai servizi e l'obiettivo due nel nostro progetto è quello di formare i pazienti questa diciamo Health Literacy avere dei pazienti che collaborano al loro percorso di cura è una cosa importante quindi attraverso i volontari ci prefiggiamo anche questo secondo obiettivo di avere pazienti più formati e più informati affinché possano vivere meglio il percorso della loro malattia. Dottore Sacanetti ed è stato riconosciuto il Data Publication Grant può spiegarci l'argomento della ricerca da lei pubblicata e per cui ha ottenuto questo riconoscimento? La storia della pubblicazione ha iniziato nel 2019 con l'approvazione del carmato che è oggetto della pubblicazione ed è uno studio di real life ovvero porta risultati dall'osservazione nell'arco di oltre due anni di una popolazione di persone con infezioni ad HIV che hanno avuto la possibilità di essere curate con questo farmaco quindi si è andata a valutare l'efficacia la tollerabilità la sicurezza del farmaco per andare a integrare i dati degli studi registrativi mentre gli studi registrativi sono di solito effettuati in condizioni ideali gli studi di real life sono calati sulla quotidianità e quindi hanno questo valore grazie 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 grazie